Gli ospedali e gli operatori economici sono messi a dura prova in queste settimane ed è per questo che la BCC Fano mette in campo iniziative concrete anche alla luce delle misure previste dal recente decreto Cura Italia. Sul versante economico per sostenere il tessuto produttivo locale e rispondere alla crescente esigenza di liquidità ad integrazione delle misure attuate dal governo BCC Fano ha elaborato prodotti mirati. Si tratta sicuramente di una situazione del tutto nuova e abbiamo pensato che non bastasse fare le moratorie, fare dilazioni, manovre che continueremo a fare ma si tratta comunque di situazioni anche che vengono proposte poi e saranno sostenute anche a livello proprio di disposizione da parte del governo e quindi dovremmo comunque vedere un po' se queste iniziative come le possiamo proporre ma sappiamo anche che non sono in molti casi risolutive. Abbiamo pensato a due prodotti in particolare a sostegno della liquidità delle aziende che in alcuni casi hanno dovuto proprio interrompere l'attività in altre hanno avuto una drastica riduzione. Quindi l'intervento di liquidità è volto a sostenere queste imprese e traghettarli in un momento migliore. Quindi abbiamo pensato a due prodotti con un'unica caratteristica di preammortamento al 31-12-2020. Quindi le rate di questi finanziamenti decoreranno dal prossimo anno. Il primo prodotto che abbiamo pensato che ha un importo massimo di 25.000 euro a un tasso dell'1% è dedicato all'attività commerciale e servizi. Categorie che sono state proprio costrette a chiudere temporaneamente l'attività e quindi si troveranno a fronteggiare un periodo di blackout da un punto di vista di incassi, incassi zero. Quindi vorremmo sostenerli con un finanziamento a 48 mesi, quindi a 4 anni, a partire dal 31-12-2020 con la logica di cercare di razionare nel tempo queste difficoltà. Il secondo prestito invece è rivolto alle attività produttive che pur non avendo avuto l'obbligo di chiusura delle attività stanno registrando un forte calo del lavoro con entrate quindi fatturato ridotto al minimo. Qui non abbiamo un importo massimo, chiaramente abbiamo dimensioni aziendali diverse e quindi l'importo verrà valutato caso per caso, il tasso fisso è dell'1,50 ed il rimborso è previsto entro 24 mesi sempre a partire dal 31-12. Vorrei fare un ulteriore appello alla nostra clientela e ai nostri soci, è un momento particolarmente difficile da un punto di vista di vita, quindi per la sicurezza di tutti la clientela è invitata a non recarsi in filiale per operazioni rimandabili, avremo tempo di assistervi, non c'è problema.